che se fa che se fa non si sa non si sa ma si saprà ci andiamo a tritidiare i maroni nell'occhio cioè non ne abbiamo già avuto abbastanza ieri sera mi sono messa a craftare no non ci andiamo non ho voglia di litigare con gli asmo già sfrangiano i maroni non riesco a le quest cosa più assurda che non mi ricordo come si entra nel nell'indian death nell'indian death dove ti fanno chiappare come vai a farmare le ancient comunque doveva comprarti l'armatura perché ora ora come ora c'è un ricordo era più o meno abbastanza buono per il pv e che io faccio quindi ok abbiamo finito di fare il tango e ora ci tocca l'ernio ecco allora dicevamo sì ragazzi così bello e pacifico stare qua vogliamo proprio andarcene si è che ho stoppato le mie quest archeggia vedete no server time hanno 30 31 giorni tanto e 15 o 15 ci sono gli sciugo itineranti è in giro grazie di avermi avvertito di essere in live alzare la felpa fare ok ri abbassare la felpa facendo entrare l'orologio perché allora abbiamo visto la chicca ieri che sfondava con i mecca lo chiamo al mecca perché è più bello mica voi volete chiamarlo a eter cos'era eter tech e per te partono non so quanti ne abbiamo 7 quindi te ne danno 15 sì allora vabbè dai siamo a 100 parla qua dei barboni dei barboni sono qua dei barboni andiamo avanti anche perché si riesce ancora qualcosa ma qua dei barboni allora dove c'era una casa questa era chiusa che cacchio ha prende da fare la casa chiusa cioè le prostituite ah questo è quello bellissimo qua tutto il resize quello che questo è un armadio eh si vede il cursore questo va all'armadio è anche capiente trovato questa è già finita eh ma sto compiuta in mono o c'è una cosa che sento meno ce n'era un'altra così a naso ma l'abbia finita niente a prendere staccarum che vedo che torni fuori e spara così allora spostarlo sul lato pc perché ci vogliono eoni per far accendere ma se non becchi la scala questo è quello che va su tutte le piante finite ma è cosa che non mi piace del dello script per ingrandire e rimpicciolire gli oggetti è appunto il fatto che entri ci mette un po' a ingrandirte li si devo andare a fare teo lab si devo andare a fare teo lab mi ricordo il mostro si lo reggo per reggerlo lo reggo perché reggevo anche quell'altro a cavallo uno bene sono contenta non ci stanno mai di solito troppo casse d'oro una cosa che mi sono dimenticata guardando le quest ne ho 20 su 40 per cavolo le ho prese dove le ho grattate giù dai muri si la tengo vicina vedrete le sue gambe ma dopo village flop intanto targhetta a caso sta qua non deve targhettare un mostro a sti cavoli che te lo targhetta la spattiscono su quello morto ma anche no un'altra cosa carina carina ci vado qua si la diamo a bagnare contanto non ha venduto niente al broker ancora perché io ho il mio monitor ho il mio monitor allora svolgimento full screen non quello lì adesso le ribalterò tutte perché dice no non c'è soluzione di continuità niente da fare la webcam non collabora quindi non riesco ad apparire in webcam cioè funziona per tipo due secondi e poi che chi ti tirano non so sammita asgard asgard mi sa che era un'altra si è venuto con la carne però non ne potevo più di averle in inventario ma intanto che ci siamo a shift f12 perché devo andare a santo dobbiamo andare a santo le deli ma anche no e cioè io le lascio lì si devo fare sugo for the ride lì non aveva cosa del genere farò si fa fare il giro turistico del villaggio c'è l'està l'housing andiamo a santo perché è bene si grazie perché volevo fare una cosa che l'avevo fatta tante volte ma all'epoca era nuova e andare a picchiai di quattro stordita dove vai fatto ma qui ho visto che hanno aggiunto una nuova quest a livello 10 hanno aggiunto la nuova quest ti manda a parlare con un tizio mi serve il biglietto per entrare mi metti nell'altro cubo vero qui mi ricordo che si entrava e si usciva cioè se vedevi uno in giro lo prendevi allora dovrebbe essere questo spero di non fare una minchiata già la solita minchiata cioè in quell'altra facevi il gruppo ed entravi oh questo qua è il challenge dai vai ti fa uccidere dei mostri a random ancora mi pestano in questo modo atroce se non mi si viene non sa cosa mi fa l'altro e magari se è un po' più sveglio di mattina ma non è che non si può pretendere di tanto non è che non si può pretendere di tanto non è che non si può pretendere di tanto e rimpidi ancora uno rompi le palle e volevo dire rompile palle rompile palle Ah, c'è questo qua, e arrivo, non t'avevo visto, lo stai lanciando, ma non ho messo scoordinata qua. Abbiamo passato il primo stage, mi dai la box, che contiene il ticket per rientrare, se si uccidono. Adesso mi metto comoda finché non riesco. Devo fare pure di corsa? Anche no, anche un pianino a livello così, ci vorranno 60 milioni di anni, ma ce la farò. Quelle skill lì sono messe a cazzo, però sono a cazzo proprio le mie skill. Devo vedere se trovo i vecchi screenshot che ho fatto su quell'altra. Cosa mi tocca uccidere? Ah, i due tizi, allora. Non so che erano dei due che non piava di tutte le balle, un singolo superiore. Forse era il Karate Kid qua e questo qua. No, questo che sto fattiando non c'è. Ecco, questo qua che è rimasto in piedi, che l'ho trovato in una zona degli albumo. Allora, è orribile la cosa che faccio, ma di solito uso per reccare. Scusate, mi faccio leggere un messaggio dal telefono. E' in consegna. Scusate. No, è bello che prima mi dice che il mio ordine consegna. Adesso mi dice che il suo cliente Amazon sta lavorando l'ordine. Il piccolo esaurito effetteremo la sostituzione, sì. Ho capito che è una cagata pazzesca la spesa con Amazon. Vabbè, l'abbiamo provata, basta adesso. Andremo con S lunga, proprio se proprio ci tira il culo. Allora, qui cosa c'era da fare? Comunque sì, se ammazzavate il tipo si dico volte, vi dava qualcosa in più, non mi ricordo cosa. Ah, già lo sbattimento mi vale. Ah, devo distruggere questo. Così loro... Sono rincoglioniti e vanno lì a mangiare, così tu ne ammazzi con calma uno alla volta. E' anche una cosa davvero. Ovviamente, occhio quando sponna di nuovo il barile. Sennò te li trovi tutti in da'cabeza. Vai, 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 vai. Fatevi mangiare, guardate. Un po' si stufano anche con un po' spade un giorno. Vabbè, uno spade due. Ecco, poi arriva la mamma perché avete picchiato i miei bambini. Mi picchiavano loro. O io loro. Stammi lontano. Questo poi si incazza, uccide i miei turini. Guardi che voce disperata che canta. Sì, in teoria qua vedo... C'è me l'ha già data, immagino. Ma bollami. Ma questo è quello che va in stoneskin. Tiragli la skill. No, è ancora in stoneskin, è inutile che gliela tiri. E qua ci mettiamo come al solito a rilassarci. Bene, me lo ricordo. Ci sono entrata poco. Va bene. Va bene. Ok, brava, hai recato. Andiamo allo stage 4. No, che ti spedisce nel... Bello, l'aramel così che non si vede una mazza. Sarà divertentissimo uccidere i mostri. No, ma dai, l'avevo già fatto e non c'erano problemi. Allora... Non si vede un cazzo. Amai, non ho problemi, io ti do a caso. mi sono dimenticata di dire a Kika che quando cambia il tempo a a Aaron qui va così è bello volevo forse aspettare di tirarli giù tutti ma un'altra volta mi sa che ero nella libera stai buono tu un attimo ok recco dopo va bene però se me lo fai fare così anche nell'altra è la fine cioè al bonus ti fa aprire una scatoletta appare voi non la vedete ma c'è devo parlare prima si parla prima con lui ecco purtroppo vai allora apro e apro questa è molto psichedelico come dice Kika ho preso l'insegna ok allora adesso ci mettiamo a reccare in questa psichedelia portami via psichedelia portami via ho dato oh oh quante me ne ha date una? non mi sa che ho beccato la cassa sfigata vabbè 1.7 guarda farsi un pvp con questo non ha una bella idea eh sì ragazzi psichedelia a volte fa psichedelia strano ma queste qua le hanno tolti in Ion normale già in Ion Gameforge eh altrimenti non si spiega allora basta vediamo un po' se ci portano in un coso meno psichedelico oh vabbè già questo che non è psichedelico è buono perché iniziano a essere un po' più rompiballe i nemici ecco round 1 dove sei dove sei e chissà abbiamo un altro chierico no ma perché solo a me è inutile quella stile anche a lei c'è un po' non è finita c'è il Manastow Remover che non sa perché è diventato super figo è diventato un picchiatore deve essere qualcuno dei niente non si dispella niente per sbaglio ah sono proprio inchiodata qua senza soluzione di continuità una pompa di vogliono allora adesso qua dovremmo essere all'ultimo stage dovremmo andare all'ultimo stage non è niente di trascendentale a livello 64 ma calcolate c'è un'armatura che fa cagare sia quella delle quest esatto questa qua invece è proprio rimasta con la base che ci danno all'inizio è per dire intanto recco in televisione vediamo un po' spero che mi mandino tutta la roba che ho chiesto voglio vedere con cosa mi cambiano i prodotti Kinder se mi riempiono di Milka giuro che è l'ultima volta che mi vedono ok siamo pronti no psichedelia qua ah è la psichedelia devi tirare il giusto bamboccio e allora in versione psichedelica deve essere una rotta di palle dove sei dove sei vieni poi è arrivato sì è un po' più torno un po' più torse degli altri ma è un attimo l'inroute così per simpatia proprio non mi ricordo cosa dovevi fare dove stagli lontano di sicuro vabbè è l'abc del evitare ma è inutile che ti ti ah ti ti re-trasporta lì perché mi fa queste fogo nella vita poi ti spara adosso dopo al fogo maia fa male grazie ma non mi dai neanche il destino ma stai forse le palle le devo in teoria dovresti evitarle le palle hai finito di rompere i coglioni ecco vedi, bisogna ucciderlo per 5 volte, questo me lo tengo per tua memoria ok, lo uccidi in teoria per 5 volte poi ti serve di aprire un rip da qualche parte e ti vai a fare l'ultimo e poi dopo mi sbatte fuori da questa psichedelia adesso onestamente non saprei che fare, mi piacerebbe sapere più o meno il costo dell'armatura così a naso perché ha delle particolari esigenze fisiche e mentali come si entra nell'idian depths, come si entra, si potrebbero andare all'arena, penso che abbiano un orario d'apertura quindi anche se ci vado adesso non c'entra una mazza proprio, non occorre bird lanciato ma neanche più sbaglio allora, che si va, come si entra nella parte dell'idia qua, aspetta solo questo no, se il pop play sta vincita, qua era, no non c'è neanche questo, non c'è neanche più rispito sia cosa vuoi da me no, questa è tutta roba da fare ma proprio mezza non ne ho chi è che dovevo andare a parlare, forse con questo no, coin no non è con chi è che dovevo andare a parlare, non è ho detto che non è quello no, non è quello, me lo sono perso no, queste sono tre allora sono ancora entrata poi me lo ricorderò a memoria si c'è un po' di roba si c'è un po' di roba era qua, secondo me era questo allora nell'idian depth come ci arrivo? non mi ricordo più vi giuro che non mi ricordo più vi giuro che non mi ricordo più I don't remember proprio vuoto mentale guarda minchia costa poco eh allora adesso guarda facciamo così un attimo voi state lì eh anzi no aspetta un attimo che non mi ricordo che da noi lo chiamavano catalan underground qui invece si chiama idian idian depth perché non mi ricordo più come da che cazzo di parte se si teletrasportano cosa fanno giuro che se mi chiedi un altro aggiornamento di firefox ti mando a fan cuore eh già il fatto che ci metta una vita a caricare firefox vi dice tutto sul computer che sto usando ma è bello che prima ti dice l'ordine in consegna poi stiamo elaborando l'ordine il cervello dove ce l'hai lì idian death entras esatto bravo idian death entras e mmm gong auto guardiamo un video su youtube ok forse ho capito magari sentite l'audio vai play play ok togliamo l'audio così ecco voglio segnalare questo video voglio guardare proprio non c'è una mazza non si vede un cazzo ecco ci si vede veramente una merda scusa hai fatto un video che fa schifo allora vediamo un po' ok devo trasportarmi lì che è danaria noi la chiamavamo sud catalan credo adesso si butta testa in giù dir lì da quel lato ok c'è il teletrasporto ok mi ricordo mi ricordo c'è il teletrasporto ok ok c'è il teletrasporto c'è il teletrasporto c'è il teletrasporto ehm bisogna andare qua sborsando un botto di china e poi dopo allora da qua da quello che ho visto ti sei tipo suicidato da qua allora stampati con tutto quello che vedi allora era qua si allora si entra da qua non posso entrare da qua perché ci sto sul cuore no davvero in teoria dovresti entrare da lui perché non mi fa entrare cos'è si aggiungiamo altre minchiate a no dai era qua lui era qua c'è un livello per entrare forse 65 io dico eh ahhh 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 tra l'altro non ho deli non ho niente non ho niente di lì ce l'ho no più che altro non ho un perché andare avanti qua c'è un proprio zero e proprio zero zero non ne ho mezza di andare avanti di qua e essere massacrata tra l'altro vediamo la deli che cosa mi chiede ah i cifff12 sono i cretini che arrivano no guarda anche no ma anche no guardate ho buttato via dei soldi dai 65 ed allora centrieremo prima o poi allora direi che tra un po' arriva la spesa quindi ehm direi che la chiudiamo qui e mi faccio i cazzi miei nel frattempo come è lecito che sia quindi ehm gioia dove sei twitch qua che raga che ci si vede oggi abbiamo fatto poco e non ho voglia di fare niente quindi alla prossima ciao ciao